ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lancire ed oggi ritorniamo con un nuovo video dedicato alla raccolta match attacks extra perché è uscito sul sito tops l'aggiornamento quello che aspettavamo da un po quello che era segnato sul retro del raccoglitore eccolo qui il transfer update edition mega multi pack e infatti eccolo qui in questo video ce lo andremo ad aprire insieme scopriamo le carte che si trovano all'interno e vediamo un po che tipo di aggiornamenti sono prima di partire però con l'unboxing io vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale se ancora non avete fatto di attivare la campanella e soprattutto schiacciate un bel like a questo video e allora mettiamo il raccoglitore andiamo a leggere che cosa c'è in questo mega multi pack 49 carte all'interno con due pacchetti credo siano due pacchetti dell'edizione standard più 16 carte esclusive new transfer e 8 carte esclusive deadline day new transfer in più abbiamo la solita limited edition che come sempre eccola qui la vedremo tra poco come sempre non so che senso abbia chiamata limited edition anche perché dici limited edition si trova solo in questo pack beh anche le altre carte si trovano solo in questo pack quindi tutta questa limited edition direi che tutto il pack potrebbe essere considerato così 9 euro e 99 il prezzo quindi per terminare al cento per cento la raccolta match attacks extra andiamo ad aprirlo subito allora eccolo qui il nostro pack aperto come sempre non c'è un vero e proprio pacchetto come dall'immagine abbiamo un pack bianco con tutte le carte di aggiornamento il nostro cartoncino e due pacchetti della versione standard questi sono i primi due pacchetti che ci andremo ad aprire magari esce qualcosa di interessante allora li ho già iniziati ad aprire iniziamo con gli abri crowd connection lukeba breakthrough baller il pallone l'official match ball dell'europa league abbiamo una tunnel view e lucas o campos altra tunnel view e hanko per il fei e nord abbiamo amrabat per il manchester united musial assist master giampiero gasperini il coach dell'atlanta pitch side di leandro trossard altra pitch side e sima can poi abbiamo una cristal e la limelight di lauren james e poi tomori kings of europe secondo pacchetto prima di passare alle carte di aggiornamento iniziamo con un'altra crowd connection e tavernier per il rangers mitoma global gamer assist master florian wirtz e il suo l'everkusen campione di germania della bundesliga prima volta nella storia poi abbiamo devrai mazzarri ormai ex allenatore del napoli schlotenberg pitch side dell'assist master di cubo julian alvarez una limelight e battle poi buonaventura e a terminare due carte speciali abbiamo diogo iota carta heritage e kings of europe e joao mario facciamo un po di spazio liberiamo questa parte del tavolo così vediamo subito le carte aggiornamento eccolo qua il nostro pacchettone vediamo subito che cosa c'è all'interno allora partiamo subito con la limited edition beh questa carta devo dire che comunque è proprio una gran bella carta abbiamo un po di nuovi trasferimenti eccola qui limit edition transfer power è la numero tp e iniziamo subito con morgan rogers new transfer deadline day per l'aston villa poi abbiamo otavio otaide zaragosa new transfer per il bayern di monaco e che che ugo e che che è passato al francoforte poi gabriel paulista all'atletico pablo fornals al betis tommaso baldanzi per la roma e andrea belotti bella questa per la fiorentina queste sono le deadline dei poi abbiamo calvin phillips che è passato al west m l'abbiamo visto anche nella carta limited edition vittor roche poi abbiamo vermalen sceraldo becker lucas beraldo eric dyer e bohi tutti i nuovi acquisti del bayern poi abbiamo cedon sancho elmas l'ex napoli passato all'ipsia per il leverkusen iglesias henderson jordan henderson che è andato all'ajax marcos leonardo per il benfica abbiamo siril gonge per il napoli e poi per l'inter backman angelino il nuovo acquisto della roma e abbiamo anche un passaggio al celsi di mayra ramirez new transfer per il calcio femminile e allora ragazzi queste sono le card che servono a terminare la raccolta match attacks extra gli aggiornamenti abbiamo un po di carte speciali con una limited edition chiamata transfer power e poi un po di nuove carte trasferimento ci sono un po di giocatori stranieri alcuni anche abbiamo visto quelli italiani angelino per la roma backman poi abbiamo visto un gonge al napoli insomma qualcosa di interessante questo update al momento non si trova in edicola non so se arriverà mai quindi se lo volete acquistare direttamente dal sito tops ed è necessario a completare la raccolta match attacks extra e allora ragazzi con tutte queste carte della raccolta match attacks extra di tops io prima di salutarvi vado a ricordare come sempre l'iscrizione al canale se ancora l'avete fatto di attivare la campanella e soprattutto di schiacciare un bel like a questo video e quindi con questa bella limited edition transfer power da lancire è tutto ci vediamo al prossimo video ciao